Secondo turno ormai alle spalle per i protagonisti di questo US Open. Poche sono state le sorprese, anche se continuano a uscire un po' di teste di serie. Ma analizziamo un po' tutto ciò che è successo in quel di New York, dai. Agile, secondo turno per Daniel Medvedev che ha liquidato letteralmente in tre set Arthur Rinderneck, senza troppi problemi. Il russo per ora sembra veramente solido, ma sarà opportuno vederlo giocare nelle partite che contano veramente. Perché sono un po' quelle che lo hanno messo in difficoltà quest'anno, ecco. Vedremo se riuscirà invece a riscontrare qualche difficoltà in terzo turno contro il cinese Wu, che ha battuto in 5-7 tiratissimi, Borges. Il cinese viene da un numero consecutivo di vittorie per niente male. Questo potrebbe dargli un po' di fiducia sull'Arthur Ash contro Medvedev. Perché il russo è iniziato forte, sì, ma bisogna ricordare che non è solido come l'anno scorso. Tuttavia, la sua vittoria non mi pare affatto in dubbio. Prima difficoltà in questo turno anche per Nikirios, che ha impiegato 4-7 per battere Benjamin Bonzi. Che, pur avendo perso di misura i primi due, non ha mollato la presa. Ed è stato più costante dell'Australiano nel terzo set, vincendolo. Inizio di seconda parte di stagione che non ci sta mostrando il Kyrgios che abbiamo visto precedentemente sull'erba. È sempre centrato, sì, ma sembra un pochino meno devastante, ecco. E questo, beh, non può che essere un bene per gli avversari. Perché i colpi magnifici di Nik scoraggiano quello che sta dall'altra parte della rete. Ma se di questi colpi ne vediamo di meno, viene da sé che gli avversari saranno mentalmente più in partita. E terzo turno potenzialmente non semplice contro JJ Wolf. Kyrgios però ha tutte le qualità e tutte le carte in regola sicuramente per liquidare l'americano, se non in 3-7 in 4. E accedono al terzo round anche Karenio Busta e Deminaur, come previsto. I due hanno battuto in 4-7 rispettivamente Bublik, con molta fatica da parte dello spagnolo, e poi Garin. I due daranno vita a una partita per niente male, davvero molto interessante, nella quale non so davvero chi dare come favorito. Il mio preferito fra i due è Deminaur, come vi avevo detto già in un video passato. Infatti è uno dei giocatori che preferisco di più nel circuito. Ma Karenio è in fiducia dopo aver annullato ben 6 set point consecutivi. Beh, lo sarà ancora di più, certamente. Passa anche Kachanov e anche lui, come molti altri, in 4-7. Che non se la vedrà con Ogeli e Sim, bensì con Jack Draper, che ha mandato a casa il canadese in 3-7, in un triplo 6-4. Ennesima partita e vittoria che dimostra la crescita verticale di questo giocatore. Sempre composto, sempre serio e sempre concentrato in campo. Mi piace, mi piace davvero tanto Draper. Perché l'atteggiamento mi ricorda molto quello di Sinner, molto serio e concentrato. Ma comunque, da questo match evidenziamo ancora una volta, ancora, ancora, ancora una volta, l'incostanza di Ogeli. Che può fare partite incredibili contro Nole e contro Rafa su terra. E anche, beh, figuracce come quella dell'altro giorno. Ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Draper ha davvero giocato magnificamente. In terzo turno con il russo vedo lui come al favorito. Ma è da vedere se manterrà il livello espresso nei turni precedenti. Perché dal battere Zizipass a Montreal è passato a perdere con Hoosler a Winston-Salem pochi giorni dopo. Poi si compone anche il quarto di Matteo Berrettini. Che ha affrontato un rognosissimo Grenier. Davvero, ero con i nervi a fior di pelle mentre stavo guardando il match. Grenier che però si è dovuto arrendere a una buona reazione di Matteo dopo il 6-2 del primo set. Bella partita al servizio di Matteo, questo bisogna dirlo. Ma non può dire certo lo stesso della risposta. Decisamente, decisamente da rivedere. Poiché per l'appunto sono troppe le sei palle break sprecate. Contro un giocatore fuori dai 100 che nei 100 non ci è mai arrivato. E tra l'altro non è neanche la prima volta che un avversario di Matteo gioca la partita della vita contro di lui. A dimostrazione che per battere il romano e il gioco del romano serva ben più di una bella prestazione. Ricordo infatti l'ultima volta Agstad, Pedro Martinez, faceva una prestazione maestosa. E poi però Matteo vinse, sfortunatamente. Comunque, nel complesso, bella vittoria per Matteo. Dopo un primo turno nel quale Jarry è stato pressoché inesistente. Ad attenderlo ora c'è ancora Sir Andy Murray. Anche lui, autore di una rimonta in secondo turno contro Nava. La partita che vedremo, secondo me, sarà dettata principalmente da quanto a lungo riuscirà a reggere fisicamente Murray, secondo me. Che tra l'altro ha detto lui stesso che sta giocando il miglior tennis da quando è rientrato nel circuito. Quindi se la partita si protrarrà oltre le due ore e mezzo, secondo me Berrettini sarà favorito ancora di più. E vedo comunque, per l'appunto, una partita che Matteo può vincere. Comunque, dall'altro lato di questo quarto, dello stesso quarto di Berrettini, abbiamo, come previsto, il terzo turno tra Tommy Paul e Kasper Rudd. Entrambi sopravvissuti, letteralmente, al secondo turno. Poiché, per l'appunto, l'americano ha rivinto per la seconda volta di fila, dopo i cinque set, contro Zapata Miralles, in cinque set, contro Sebastian Korda. E il norvegese ha superato Von Reithoven in quattro set. Ecco, sono due giocatori che combattono sempre fino alla fine, ma che concedono sempre qualcosa, no? Se no, non avrebbero alcun motivo per combattere. Si giocherà su Louis Armstrong, il secondo campo più grande e importante di questo circolo. E sarà pieno di gente per sostenere Paul, l'idolo di casa ormai, con Fritz fuori. E quindi Paul sarà gasatissimo. Ma mi aspetto un match abbastanza lungo, perché non credo che Rudd ci stia a perdere tre set a zero. Sorprendente è anche l'uscita di Uber Urkac per mano di Ilia Ivashka, che andrà ad affrontare un grande Lorenzo Musetti, autore di una bella vittoria contro l'olandese Brouwer in quattro set. Che va a semplificare, e non poco, quello che è l'ottavo di Yannick Sinner. Alto tesino che ha battuto in tre set, l'americano Eubanks, dopo una via di partita piuttosto imbarazzante, io ero veramente cringiato, è sceso in campo sul 5-2 per Sinner nel primo set. Da lì la partita è veramente diventata rognosa per Yannick, che però è riuscito comunque, come detto, a chiudere in tre set. In terzo turno affronterà un non semplice Brandon Nakashima, che ha battuto Grigor Dimitrov. Vittoria di routine anche per Evans, Cilic, Alcaraz, Norri, e incredibilmente anche per Jenson Brooksby, che ha battuto in tre set Borna Cioric. Passano anche Shapovalov e Rublev, che si scontreranno, Schwarzman e Tiafoe, che si scontreranno, e sorprendentemente anche Richard Gasquet, che ha fatto fuori Kezmanovic. Vince anche Rafradal contro un buon Fabio Fognini, che come avevamo detto nello scorso video, aveva le possibilità di fare un set, magari il primo set, e così è stato. Poi però, sfortunatamente, per Fabio si è risvegliato il Maiorchino. Beh ragazzi, questi sono stati i secondi turni. Si sta formando piano piano un tabellone molto, ma molto interessante per gli italiani, anche per Jannik, dopo Matteo. E magari chissà, avremo un ottavo tutto nostro, con Musetti contro Sinner. Beh ragazzi, speriamo, staremo soltanto a vedere. Vediamo un po' cosa succede in questi terzi turni, dai. Ci si becca, ciao ciao ciao. Musica Musica Musica